La CGL con i lavoratori questa mattina ha dato vita ad un sit-in relativo sciopero davanti al Tecnopolo d'Abruzzo per denunciare ciò che sta accadendo nella società Dante Labs, che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 13 lavoratori. Azienda salita agli onori delle cronache in tempo di Covid per i tamponi, specializzata nell'analisi genomica. Azienda che sta attraversando a quanto pare un periodo di forte crisi, ma la CGL non conosce la reale entità del problema. Non sono peraltro solo i 13 di adesso coinvolti, alcuni già sono stati licenziati. Inoltre alcune retribuzioni in alcuni casi TFR non sono stati pagati, dicono i sindacati. I lavoratori coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo sono all'incirca 13. In realtà però ci sono altri licenziamenti intervenuti a ridosso e precedentemente all'avvio della procedura di licenziamento collettivo. Quindi parliamo di circa 20 persone, 20 persone comprese nella maggior parte dei casi tra i 30 e i 40 anni di età. Quindi comunque lavoratori giovani di elevata professionalità che difficilmente potrebbero ricollegarsi sul territorio e che quindi dovrebbero poterlo abbandonare in via definitiva. Ecco, questa azienda in pandemia ha lavorato tantissimo, essendo anche un sopporto seppur privato all'ospedale, insomma alle strutture pubbliche. È entrata in crisi dopo quando si è ripresa la normalità al regime? Il problema è proprio questo, che l'azienda con noi non ha mai avviato realmente un confronto. Quindi noi non sappiamo le reali motivazioni che hanno condotto a questa situazione. Perché dapprima ci è stata richiesta la collaborazione per una consultazione finalizzata alla fruizione degli ammortizzatori sociali. Improvvisamente è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo. Quindi noi non conosciamo alcun dato che ha portato a questa situazione. Ci sono anche problemi di stipendi nei mesi scorsi non pagati? Sì, quest'anno, proprio nell'anno corrente, sia il personale cessato sia quello ancora in forza ha rivendicato e rivendica almeno tre retribuzioni non pagate e per il personale cessato anche il trattamento di fine rapporto.